Il pezzo si intitola Il treno della felicità, nello studio B, rigorosamente dal vivo, Tony Canto. Prego. La storia ha un'altra verità, umane e transumanze, donne e uomini, si spostano su nuovi territori, coloreranno gli orizzonti nordici, di neonati e amori mescolati. Ma che meraviglia questa vita, che comunque va da tutta qua, ma che meraviglia l'esistenza, è come un treno di felicità. Uh, 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 in questa terra tutto è ancora fertile, è il fiore dell'incertezza. Abbondanza d'arma, e i grattacieli, poesie neoclassiche, sculture futuriste nella città. E in mezzo a tutto questo c'è il sentire, l'essenza stessa dell'umanità. Ma che meraviglia questa vita, che comunque va da tutta qua, ma che meraviglia l'esistenza, è come un treno di felicità. Ma che meraviglia questo mondo, che comunque va da girerà, è un meraviglioso giro tondo, è proprio un treno di felicità. Popolazioni, intere regioni, gente che parte, gente che arriva, emigrazioni, di esseri umani, infanti viaggianti, e donne che amano. Ma che meraviglia questa vita, che comunque va da tutta qua, ma che meraviglia l'esistenza. E come un treno di felicità.